Alessandro Riccini Ricci, 30 anni di internet, un po' circa la tua età? Beh, diciamo, io sono più vecchio, più malmesso e più analogico di qualsiasi... Beh, io, insomma, ho mandato una mail anni fa, ancora non mi è ritornata, quindi, insomma, sono in attesa di capire come funzioni. Se ho sbagliato io a mandarla e il sistema non funzionava, oppure, diciamo, se sono un coglione totale, diciamo che ancora non hai imparato a usare questi giochi. No, però, insomma, mi diverte pensare che oggi festeggiamo qualcosa che non c'era, piuttosto che qualcosa che c'era e quindi è una festa per il futuro, quindi questo mi pare interessante, soprattutto una cosa, diciamo, che possiamo costruire, diciamo, veramente tutti insieme in questo momento, considerando che anche Perugia oggi diventa il centro, il crocevia dell'innovazione, no? Con la banda ultralarga che passerà per qua e quindi, come dire, un'autostrada che va presa. Grazie. 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 Grazie.